Benvenuti a questa quattordicesima lezione dove incomincieremo a parlare di concetti che sono diciamo centrali da un punto di vista dell'automazione ma che in questo corso comunque non implicano diciamo degli esercizi specifici quindi è un argomento che tenteremo nei limiti del possibile di lasciare a livello diciamo veramente teorico però vedremo che comunque alcune cose andranno affrontate dal punto di vista circuitale ovviamente l'argomento che sto introducendo è l'argomento dei sensori è veramente esteso è un argomento diciamo sul quale si può fare tranquillamente non solo un corso di insegnamento una materia sola ma addirittura più materie si potrebbe parlare per ore solo dei sensori termici o anche solo dei sensori di dislocamento di posizione eccetera noi cerchiamo di dare una visione abbastanza generica per adesso di quello che è questo in questo mondo mondo dei sensori ovviamente tutti sanno che i sensori sono ovunque ormai nel nostro mondo tecnologico sono veramente in qualsiasi parte voi vi richiate è pieno di sensori la vostra casa è piena di sensori la vostra macchina è piena di sensori il vostro cellulare e tutto il resto tutto ciò che diciamo ormai praticamente si funziona ad energia elettrica fa largo uso di queste componenti prima di tutto allora andiamo a definire ovviamente che cosa è un sensore c'è grossa confusione sia insomma tra i non addetti ai lavori sia purtroppo fra gli addetti ai lavori nella distinzione fra sensore e trasduttore ovviamente cercheremo di mettere un minimo di ordine ma sappiate che le parole sensore e trasduttore vengono generalmente confuse cioè vengono sostanzialmente date per sinonimi anche se poi sinonimi non sono allora ovviamente in generale quando si parla di sensori voi subito pensate a un qualcosa che sente un sensore è qualcosa che è in grado di sentire ma sentire cosa? sentire un qualsiasi stimolo esterno uno stimolo esterno che viene sotto forma ovviamente di qualche osservabile fisica qualche insomma impulso fisico che quindi può avere tutte tutte le varie dimensioni possibili immaginabili può essere una velocità una pressione una forza una temperatura un momento torcente un momento magnetico qualsiasi cosa che venga in mente il sensore diciamo sente questo impulso esterno e quindi riceve questo stimolo e trasmette un segnale da un output un segnale misurabile adesso in generale tutto ciò che serve a cambiare diciamo a trasmutare un tipo di segnale un tipo di osservabile fisica in un'altra si chiama trasduttore quindi il trasduttore è un elemento diciamo un elemento generico che è in grado di accogliere come input un certo tipo di osservabile fisica e di dare in output un altro tipo di osservabile fisica quindi capite bene che nella definizione di trasduttore c'entra bene anche quella di sensore perché il sensore potremmo in questo in questo corso sicuramente lo facciamo restringere la definizione a un elemento che è in grado di ricevere uno stimolo esterno di qualsiasi genere un osservabile fisica di qualsiasi genere e reagire producendo un segnale elettrico quindi diciamo per quanto riguarda il nostro corso distingueremo il sensore dal trasduttore solo per l'output perché il sensore ha in output un segnale elettrico il trasduttore non è detto può avere un output qualsiasi altra cosa ovviamente anche anche segnali elettrici questa cosa ripeto sappiate che insomma girando troverete molta confusione sostanzialmente sì ormai si usano come sinonimi queste due parole sensore e trasduttore quindi ce ne faremo una ragione e proseguiremo fermo restando che abbiamo in mente adesso che per quanto stiamo per dire un sensore produce un output di tipo elettrico nel trasduttore di tipo qualunque ovviamente che cosa è nella natura intima di ogni sensore la natura intima di ogni sensore è un convertitore d'energia è evidente che quello che fa il sensore e ricevere un informazione sotto forma di qualsiasi osservabile fisica che vi venga in mente e la traduce in un'altra osservabile fisica che nel nostro caso può essere una tensione una corrente elettrica insomma quello che volete voi ma in generale nel caso del trasduttore la si trasforma in qualsiasi altra forma di osservabile fisica ma questo modo di trasferire informazioni cambiando solo diciamo la il vestito all'informazione è semplicemente un convertire e convertire l'energia associata ovviamente all'osservabile fisica d'ingresso quindi rivestire questa forma ordinata d'energia che noi chiamiamo informazione con un altro vestito all'uscita e dire che l'abbiamo insomma convertita naturalmente insomma è ovvio che scambiarsi informazione come già detto ampiamente all'inizio di questo corso implica il trasferimento d'energia sappiate che non è possibile in alcun modo trasferire un'informazione utile un'informazione che sia diciamo portatrice di senso se non si spende energia e dato che l'energia è in realtà la forma prima se volete archetipica dell'informazione quello che fa il sensore semplicemente ripeto prendere questa informazione sotto forma di energia ordinata che sta dentro lo stimolo di input e ritrasferirla sotto forma di altrettanta energia ordinata diversamente che noi chiamiamo segnale elettrico quindi questo è diciamo il ruolo principale del sensore e ovviamente questa cosa ovviamente stimola la vostra fantasia perché è una definizione così ampia che riguarda talmente tanti aspetti della vita che sarebbe ripeto impossibile fare un riassunto efficace in così poco tempo tal qual è quel che abbiamo noi a disposizione in questo corso faccio notare qui una cosa che spesso è diciamo sorgente di misunderstanding specialmente quando si fanno poi conti con gli studenti che fanno gli esercizi sbagliano spesso il fatto che il sensore converta l'energia da una forma da una certa forma ad un'altra di tipo elettrico non implica che il flusso diciamo netto d'energia debba essere solo dal dall'esterno verso il sensore e poi il sensore diciamo parla col circuito che rileva la quantità sensibile questo non è detto ovviamente può essere anche può succedere anche il contrario può succedere anche che dal sensore venga diciamo trasmessa energia verso l'esterno o può succedere benissimo che nel funzionetto sia nullo e quindi non c'è scambio assolutamente di nessun tipo di informazione e in questo caso magari stiamo misurando uno zero quindi mettere diciamo un termometro in un bagno termico aspettare moltissimo tempo fino all'equilibrio questo implica che poi alla fine il diciamo il sensore che è rappresentato dal termometro se volete fare avere un'idea il termometro vostro a mercurio diciamo il sensore la parte del sensore è la boccetta contenente del mercurio con il tubo con il tubo stretto che tramite effetto di capillarità succhia diciamo aiuta ad arrampicarsi il mercurio quando si espande a causa del flusso in questo caso di termico il flusso di calore e allora che succede che quando si ha l'equilibrio non non c'è più trasferimento di energia ovviamente in questo caso termodinamica non c'è più trasferimento quindi di questo calore dalla riserva che si sta misurando al sensore e questo quindi implica la non variabilità più dell'output del sensore quindi in questo caso si sta misurando zero quindi mi raccomando non è detto che il fatto che il sensore converta l'energia di mestiere non implica che poi nell'atto pratico ogni sensore deve per forza ricevere questa forma di energia dall'esterno verso l'interno può anche succedere il contrario o può anche succedere che non c'è alcun cambio di energia e allora possiamo un attimo vederla in maniera opposta cioè possiamo vederla perché c'è un terzo componente di cui dobbiamo essere redotti che è l'attuatore ed è questo componente che fa il lavoro inverso del sensore è solo un modo diciamo di catalogare le cose in realtà spesso e volentieri attuatore e sensore possono essere anche lo stesso oggetto fisico dipende da come lo utilizziamo comunque un attuatore è un oggetto che in seguito a uno stimolo di natura elettrica traduce questa energia in un output di qualunque altra forma di qualunque altra osservabile fisica quindi per esempio non so un microfono riceve l'impulso elettrico e le emette delle vibrazioni e quindi noi le percepiamo come suono quindi l'attuatore è diciamo il contrario quindi in questo caso abbiamo fatto l'esempio dell'altoparlante che ripeto è un attuatore invece il microfono quello per registrare la voce sarebbe l'inverso il sensore cioè io parlo e le mie vibrazioni prodotte dalle mie corde vocali vanno diciamo a stimolare il sensore in questo caso avrà natura piezoelettrica e che convertirà appunto questa quindi questa diciamo variabilità di pressione questa diciamo questa spinta sul sensore che varia il volume diciamo del cristallo lo traduce in una differenza potenziale questa va come sotto forma di corrente elettrica dentro il circuito quindi abbiamo che l'attuatore e il sensore sono le due facce più o meno della stessa medaglia del stesso oggetto mentale quindi possiamo fare un tirare una somma una maniera di somma di quanto detto finora e possiamo ribadire che da adesso in poi noi intenderemo per trasduttore un qualunque elemento in grado di rispondere ad uno stimolo qualsiasi con un segnale a qualsiasi natura quindi un input un osservabile fisica qualunque in output un osservabile fisica qualunque il sensore invece scegliamo di chiamare sensore un qualunque elemento in grado di diciamo prendere come input un osservabile fisica qualsiasi ma dare in output un osservabile fisica di natura elettrica quindi un segnale di natura elettrica l'attuatore è assolutamente l'opposto del sensore cioè come input accetta solo un uno stimolo di natura elettrica come output da un osservabile fisica qualunque pressione so qualsiasi cosa impulsi luminosi qualsiasi cosa volete voi quindi sotto questo punto di vista un led è un attuatore ci riceve un impulso elettrico ed emette luce quindi finora fino a qui tutto bene so far so good possiamo incominciare a vedere un po più nel dettaglio che queste definizioni non sono poi così banali come sembrano perché non sono così banali come sembrano perché il più delle volte per gli interessi specifici che abbiamo magari nel costruire un nostro circuito non ci basta mettere un sensore magari non esiste un sensore diretto per il tipo di stimolo che vogliamo studiare se noi vogliamo studiare il segnale es generico ci accorgiamo che magari in commercio non esistono sensori diretti per questo tipo di stimolo quindi che facciamo dobbiamo ingegnarci dobbiamo arrovellarci un po la testa e cercare di scegliere dei trasduttori per tradurre magari no per trasdurre anzi questo segnale stimolo originale s in questa slide s1 in un'altra forma diciamo la s2 poi magari ci accorgiamo che per s2 si esiste il sensore diretto però magari è costoso troppo costoso per il nostro budget e ora ci accorgiamo che magari con l'introduzione di un secondo trasduttore t2 traduciamo trasduciamo s2 in s3 ed s3 abbiamo appunto un sensore diretto per s3 molto meno costoso e quindi magari facciamo così costruiamo questo sistema dove lo stimolo originale è trasdotto la prima volta da t1 per necessità perché non esiste magari il sensore diretto ma il trasduttore t2 potrebbe essere presente semplicemente perché ci fa diminuire il costo totale della baracca e allora che succede succede che chi è il sensore non è più diciamo solo quest'ultimo blocco che vedete qui il sensore diretto diciamo di dello stimolo s3 ma possiamo chiamare sensore tutta la baracca tutto il tutto il circuito comprensivo del trasduttore t1 del trasduttore t2 e quindi in questo caso sicuramente il sensore sarà tutto il blocco composto dalla serie t1 t2 e il sensore diretto quindi lo stimolo originale s1 verrà finalmente tradotto in output da un certo tipo di segnale elettrico e siamo tutti contenti quindi vedete che anche se il sensore in generale come oggetto per come l'abbiamo definito è un sotto insieme della famiglia dei trasduttori in realtà può succedere una cosa così di principio anti intuitiva cioè che un sensore in realtà può essere composto da più trasduttori ok quindi non vi fate insomma impressionare da questa eventualità che un sensore sia necessariamente composto da più trasduttori cioè ma però avevate detto che il sensore era un sotto insieme del trasduttore come fa un sensore a contenere dentro di sé più trasduttori per questo motivo perché non è diciamo questa una definizione rigida di sensore una definizione abbastanza larga quindi per quanto visto possiamo certamente capire che diciamo ci sono vari modi in realtà no di distinguere fra loro i sensori o di catalogare i sensori anche quando si vanno se volete a comprarli su un sito su un in un negozio di elettronica ci sono vari modi di metterli in ordine questi sensori si può definire categorizzarli distinguerli no fra i diretti e complessi il diretto è in questo caso in caso di prima è solo questo qui il sensore diretto per stimoli del tipo s3 complesso sarà tutto magari c'è un negozio che lo vende già tutto montato quindi noi distinguiamo fra sensori diretti e sensori composti o complessi come volete voi ma secondo modo di categorizzare i sensori potrebbe essere semplicemente distinguerli fra estrinseci e intrinseci ovviamente rispetto a cosa cioè fanno stanno dentro o fuori rispetto a cosa rispetto al sistema di acquisizione dati anche qui magari comprate direttamente non lo so un insomma un cristallo perzo elettrico e oppure comprate direttamente tutto un insomma registratore già fatto e quindi sicuramente potete parlare di sensori estrinseci o intrinseci potete anche distinguerli fra attivi e passivi cioè fra quelli no che per loro natura vanno alimentati rispetto a quelli che invece funzionano così senza alimentazione prendiamo appunto ad esempio il termometro di prima il termometro al mercurio di prima e mettete sotto la scella non gli serve la batteria quello è sicuramente un un sensore passivo in qualche modo no un device passivo che non richiede alimentazione mentre la termocoppia quella che avete dentro il motore della macchina quella che avete dentro il boiler a casa che vi indica la temperatura quella va ovviamente va assolutamente alimentata cioè richiede consumo di energia al suo circuito per funzionare insomma questi sono tre modi di distinguere i sensori ma vi assicuro che ce ne sono molti molti altri quindi dipende insomma dipende assolutamente da che cosa volete voi vedere e allora andiamo diciamo cerchiamo di terminare almeno questa parte introduttiva sui sensori con un'ulteriore se volete classificazione classificazione del tipo di diciamo di processo che usano i sensori nell'atto della traduzione dell'informazione per questo possiamo distinguere tranquillamente in tre categorie i sensori fisici chimici e biologici sensori fisici come immaginate voi sono quelli basati sulla effetti termici sulla luce magnetici eccetera eccetera invece quelli chimici e quelli biologici sono basati su processi rispettivamente elettrochimici o biochimici anche qui ci sono sei milioni di sotto categorie ed è una cosa veramente insomma ampia da discutere però noi ripeto ci fermiamo in questa piccola categorizzazione che ci aiuta sicuramente a definire che tipo di sensori abbiamo adesso bisogna fare un piccolissima una piccolissima deviazione da questo discorso dei sensori per introdurre un altro oggetto non lo useremo in maniera particolarmente insomma importante durante questo corso perché credo sia argomento abbastanza trattato negli altri corsi che non che non tengo io quindi diciamo lo accenno solo ma è un oggetto in realtà abbastanza essenziale quando si fa uso di sensori in un dato sistema quando si hanno molti sensori quando si hanno comunque da smistare molti molti input generalmente quello che si fa è si usa un oggetto che prende il nome di multiplexer in italiano c'ha una traduzione abbastanza orribile che è multiplatore ed è semplicemente un oggetto che accoglie tot n di solito pari ovviamente devono essere pari poi vedete perché input e ha solo un output quindi una specie di se volete di smistatore che decide di volta in volta quali dei vari simi input mandare all'esterno come output per esempio perché serve serve perché il più delle volte un sensore solo non serve a nulla il più delle volte abbiamo tanti sensori moltissimi sensori più delle volte sono veramente tantissimi pensate al più semplice che vi possa venire in mente il sensore di porta aperta della vostra macchina e allora è ovvio che noi di porte ne abbiamo insomma tipicamente ne possiamo avere cinque cioè le quattro porte guidatore passeggero e due sedili di dietro del posti di dietro più la quinta porta che è il trunk la porta del bagagliaio quindi abbiamo cinque necessità abbiamo diciamo di mettere sensori in cinque posti diversi adesso in questi casi questi casi diciamo i sensori cinque sensori sono semplicemente degli dei contatti elettrici sono degli interruttori se stanno diciamo se sono chiusi sportelli toccano le due piastre quindi la macchina sa il circuito sa che passa la corrente se invece diciamo le porte sono aperte è un circuito interrotto quindi quello che sostanzialmente fa in questo caso il circuito è un check di continuità se passa o no se c'è una conduzione e quindi manda che fa questa cosa manda questi cinque output per il sensore ma input per il multiplexer dentro questo mux che sceglie il più sceglie quale diciamo quale mandare in in visione sullo schermo ovviamente non è che ne manda uno e l'esclude gli altri magari li manda con un algoritmo che li fa girare per esempio prima se sono tutte aperte potrebbe scegliere si potrebbe scegliere di indicare prima la porta del guidatore aperta poi la porta del passeggero poi insomma le due dietro e poi la porta quindi ci sarà questo diciamo questo continuo ciclo di messaggi porta anteriore destra porta anteriore sinistra porta posteriore destra porta posteriore sinistra e bagagliaio che girano in continuazione chi è che li fa girare è il mux che decide di volta in volta di dare visione per un certo periodo di tempo a questo sensore a quell'altro al terzo al quarto al momento quindi a questo serve il mux ovviamente questo questo mux ripeto è come voi sicuramente immaginate un oggetto abbastanza complesso il circuito interno noi non lo vediamo ci teniamo nella astrazione tale che vediamo solo insomma il simbolo circuitale che questo trapezio trapezio che ha tot entrate in questo caso ne ha due ovviamente per motivi insomma computazionali deve avere sempre un numero pari di input quindi il minimo sono due quindi facciamo il disegno più semplice possibile vedete questa e questa b sono la porta numero zero la porta numero uno questi attenzione non hanno nulla a che vedere con i numeri binari se ci fosse stata la terza porta c l'avremmo chiamata 2 di 3 eccetera eccetera questo è il modo di numerare le porte ovviamente i piedini che servono vedete che servono sono date date il numero m di input servono logaritmo in base 2 di n quindi insomma il più semplice di tutti è questo a due ingressi a e b la s è il controllo che sceglie chi far passare se a o se b e z è l'output ripeto i mux possono essere molto più lunghi se ci hanno tanti 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 input questo è il simbolo circuitale quello che fa come vedete è smistare smistare rispetto a cosa rispetto a questo segnale di controllo s quindi questa per esempio la tabella di verità di questo semplice muxa 2 2 1 si chiama cioè due input e un output senza entrare nei dettagli che ci prenderebbe troppo tempo possiamo solo vedere che s quando s è zero vedete quando s è falso da la verità ad a perché qui c'è la negazione di a di s quindi quando s è falso in questo end è vero e quando s invece è vero da la priorità a b perché quando s è vero questa s rimane vera da la verità all'end di b per s e da invece la falsità a per s che quindi non esce il circuito equivalente lo vedete qui sotto dove a e b sono gli input di questi due end c'è ovviamente questo smistamento da una parte c'è un s dall'altra devo avere un non s adesso ci metto un not o ci metto un end con gli ingressi così è uguale non cambia nulla qui c'è insomma un not se volete se volete risparmiare e comprare meno componenti e quindi qua va s e qua va la negazione di s quindi ci sono questi due end che vanno nell'or che poi c'è l'output z quindi z è l'end fra a e negazione di s più b per s quindi ripeto quando s è vero da la priorità a b quando s è falso da la priorità ad a in output ecco genericamente così funziona se volete il mux adesso scordiamoci di questo oggetto che è molto più complesso in realtà ma che ripeto credo voi sicuramente lo dobbiate vedere in altri corsi però sappiate che esiste il modo di farlo di scegliere gli input quindi possiamo mettere tanti sensori quanti ce ne pare diciamo e andiamo avanti con la teoria allora bisogna discutere un minimo le caratteristiche di un sensore cioè che cosa andiamo a guardare di un sensore di questo oggetto beh certamente ovviamente c'è bisogno di sapere di conoscere la funzione di trasferimento la funzione di trasferimento che ci fa appunto ci lega lo stimolo s minuscolo in questa slide all'output il segnale elettrico di risposta che chiamiamo con s maiuscolo quindi s grande vedete è una funzione di s piccolo quindi usiamo la stessa lettera non perché vogliamo farci del male gratuitamente ma per farvi capire che è la stessa informazione però vestita in un modo diverso questa per esempio è temperatura s piccolo e s grande è la corrente derivante dalla temperatura nel caso di una termocoppia no? quindi abbiamo questa funzione s uguale f di s e noi andiamo a misurare poi s grande cioè la parte, l'informazione rivestita vestita da segnale elettrico quindi noi andiamo a misurare s grande quindi quello che ci serve il più delle volte è, anzi sempre ci serve di invertire questo rapporto funzionale perché noi si misura s grande ma noi vogliamo in realtà dare la misura di s piccolo dell'oggetto da misurare l'oggetto interesse del sensore è s piccolo non è s grande, s grande è il modo in cui noi riceviamo informazione ma noi vogliamo conoscere s piccolo la temperatura nel caso del termometro e quindi che succede? che dobbiamo invertire, ci troviamo a dover invertire questa funzione dobbiamo trovare s piccolo alle f alle meno 1 di s grande dove il meno 1 ovviamente ricordo ai più non simboleggia un inverso algebrico ma simboleggia l'inverso funzionale quindi per evitare di sbagliarsi, diciamo di confondersi questo non è 1 fratto f ovviamente è l'inverso funzionale per evitare confusione chiamiamola f grande è un'altra funzione, f grande quindi dobbiamo trovare s piccolo uguale a f grande di s grande adesso come fare? ci sono mille modi diversi o magari non ce ne sono il più delle volte è molto difficile per esempio ci si potrebbe trovare in situazioni dove non c'è modo analiticamente di farlo ma ci restano per esempio i grafici sperimentali e quindi come si inverte il grafico ricordate si ribalta e si gira di 90 gradi quindi c'è un'inversione diciamo specchiando la funzione rispetto alla bisettrice primo terzo quadrante si può trovare per esempio la funzione inversa pensate, ripeto, alla tangente, alla cotangente al seno, all'arcoseno ristretto ovviamente al periodo eccetera eccetera si può fare benissimo per via grafica si può fare per via analitica quando si può si può fare per calcolo numerico per approssimazioni numeriche col computer in casi un po' più disperati però si può fare in generale possiamo sapere la s che era la s piccola che era oggetto del nostro interesse attraverso la misura di s grande che è sempre lei ma trasformata in forma di energia elettrica e quindi siamo contenti però che succede? succede che non è detto che questa f di s ripeto sia una bella funzione può essere un casino di funzione molto complicata quello che ci viene in aiuto come sempre sono i vecchi teoremi che avete studiato da analisi 1 lo sviluppo in serie di Taylor sotto le ipotesi in cui si può fare per esempio ci trasforma la f di s in una funzione lineare in una retta al primo ordine cioè del tipo a più b per s se ci fermiamo al primo ordine se ci fermiamo al secondo diventa una parabola al terzo forma insomma un polinomio terzo grado eccetera eccetera però tipicamente quello che si fa è che si cercano le cose lineari quindi ci si ferma al primo termine di sviluppo quindi la f di s più volte può essere può diventare a più b per s ovviamente scritta così è un caso particolare perché si presuppone che s passi per zero magari non è detto che ciò accada e quindi il caso più generico di funzione lineare diciamo che questa e s può essere approssimata con s zero diciamo più k che moltiplica s meno s zero dove ovviamente questo s zero grande questo chi ce lo dà non ce lo dà nessuno ce lo dà il costruttore del sensore che andrà a calibrarlo con una fonte nota della misura del misurando e quindi saprà darci questa s zero quindi questo tipicamente è il processo di calibrazione s zero è il valore di s quando s piccolo vale s piccolo zero quindi alla calibrazione questo termine scompare ed s uguale a s zero quindi c'è questo modo di procedere e il più delle volte quando comprate il sensore vi arriva anche diciamo questa informazione che tutte le calibrazioni diciamo in questo caso c'è un parametro solo ma magari viene arriva un set di parametri perché la regressione non è lineare eccetera eccetera a proposito di regressioni non lineari è ovvio che quello era il caso facile poi ci sono casi più difficili c'è il caso in cui la relazione è di tipo logaritmico come vedete qui di tipo esponenziale come vedete sotto di tipo potenza di come vedete in terza riga eccetera eccetera possiamo andare avanti quanto vi pare il concetto fondamentale è che il costruttore quando vi vende il sensore vi dà certamente questa funzione e vi dà tutte queste costanti di calibrazione quindi insomma di volta in volta per quanto per quello che vi serve il sensore dovete andare a riferirvi alle specifiche del costruttore adesso fermiamoci un attimo qui facciamo la pausa e continuiamo questo discorso introduttivo così generico come avete visto molto generico sul mondo dei sensori quindi vi saluto e ci vediamo fra poco arrivederci adios grazie a tutti Grazie a tutti.